Graniguarda ha seguito Esmeralda e per essere per i tratto della corte viene condannato di un piccagione da clopè che viene a lui. Solo se sposeranno da un momento potrà salvarsi ed è così che avrà una presa Esmeralda tra sua moglie, ma non il suo amore né la sua amante. Benvenuti alla corte tra noi! Grazie! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!